Sì? Ok. Mi sentite? Bene. Mi scuso, intanto grazie professor Verk, mi scuso. Andava e veniva un po' l'audio nella sua presentazione, quindi buona parte l'ho ascoltata e la ringrazio non solo dell'introduzione generale, ma anche della mia presentazione. Alcune cose potrei non averle sentite perché l'audio andava e veniva. In ogni caso, se siete d'accordo, procedo con il mio intervento, cercando di stare sia nei tempi che mi ha raccomandato e sia anche un po' sul tema. Dunque, come sempre, il Cinsedo, sapete, è un centro studi sul quale si appoggiano tutte le regioni e principalmente svolge un'attività di segreteria della conferenza delle regioni e delle province autonome. Di conseguenza, mi corre l'obbligo, in tutte queste situazioni in cui intervengo, in realtà magari più come studioso di questi fenomeni, che come, diciamo, dirigente della conferenza, di precisare che tutto quello che dico è sotto la mia esclusiva responsabilità e non impegna la conferenza, non sono posizioni ufficiali della conferenza, che a volte, anzi molto spesso, è pronunciata sia in materia europea che in materia ovviamente di autonomie speciali, ma questo è tutto un altro, diciamo, discorso e non compete a me fare oggi questo tipo di riflessioni. Viceversa, mi è stato chiesto di fare un po' una riflessione sulla situazione e, diciamo, la considerazione della specialità in tutti i suoi vari aspetti, quindi questa diversità di competenze di alcune regioni italiane nel contesto europeo e in particolare, di conseguenza, nel contesto della normativa italiana che regola i rapporti tra regioni, Stato e Unione Europea, diciamo, quindi, in questo quadro di governo multilivello, come appunto il professor Volk ha voluto introdurre. Diciamo che essenzialmente i rapporti tra regioni, Stato e Unione Europea sono regolati da tre normative, oltre che ovviamente dalla norma costituzionale, sulla quale non mi soffermo perché è nota a tutti e quindi, diciamo, andremo soltanto su un piano puramente giuridico. Di queste tre normative, una è antecedente alla riforma costituzionale del 2001, mentre le altre due sono successive. Allora io farò una breve, diciamo, riscontro di queste, ho immaginato di fare questo riscontro su queste normative, che ruolo hanno e quanto queste normative hanno tenuto conto delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di conseguenza. Partirei, e poi farò, diciamo, anticipo che i risultati non sono usingieri, cioè i risultati sostanzialmente ci dicono che non c'è una particolare considerazione delle autonomie in queste normative, salvo per un caso, e però poi porterò due o tre, in realtà, casi, diciamo, in cui, nonostante non venisse fatta un'espressa previsione normativa di attenzione rispetto alle autonomie, questa cosa è stata fatta. Allora, partirei al contrario perché, secondo me, è la situazione più semplice. Quella è la legge 234 del 2012, quindi la legge più recente tra quelle tre. Le altre sono la legge 52 del 1996, che è appunto antecedente alla riforma costituzionale, e la legge 131 del 2003, che è la legge che ha dato attuazione alla riforma costituzionale con le disposizioni, diciamo, di normativa primaria. In particolare, nel primo caso, la legge 52 del 1996, mi riferisco all'articolo 58, e nel secondo caso, legge 131 del 2003, all'articolo 5. Viceversa, la legge 234 del 2012 è la legge che, tutti conoscete, che in buona sostanza è la legge di sistema e disciplina alla partecipazione e l'adempimento, a parte dell'Italia, degli obblighi derivanti alla partecipazione dell'Italia e dell'Unione Europea, e quindi regola le attività di tutti gli attori coinvolti istituzionali e anche non istituzionali, perché c'è anche il partenariato socio-economico incluso in questa regolamentazione della legge 234, per la parte della consultazione, e rispetto sia alla fase di costruzione e la decisione europea, che poi successivamente alla fase di implementazione e di ricepimento nell'ordinamento del diritto europeo. Ecco, stamattina per fare così, non l'avevo mai fatto e quindi mi piaceva farlo per capire bene la situazione, ho nel file in pdf che ho fatto con la funzione cerca, ho ricercato regioni a statuto speciale, regione autonome, eccetera, eccetera, e poi invece il termine generale regioni. Abbiamo un risultato di circa 60 citazioni del termine regioni e di una sola citazione, una sola, delle regioni a statuto speciale, è contenuta dall'articolo 59, peraltro integralmente dedicato alle regioni a statuto speciale e è semplicemente una norma di salvaguardia, cioè l'articolo di chiusura della legge, la legge ha 60 articoli, e l'articolo di chiusura è la legge che dice appunto per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione. Quindi in buona sostanza dice solo che tutta la legge si applica salvo il fatto che nel caso delle specialità si possono ritagliare situazioni particolari, ma da nessuna parte in nessun altro articolo viene menzionata la specialità. Allora ho provato un po' a capire dove nell'attuazione della legge questa specialità avrebbe potuto trovare una maggiore intensità di interesse da parte non solo del legislatore nazionale, ma delle stesse regioni in provincia autonome. In questo senso ho immaginato che sicuramente nella fase di costruzione del diritto europeo se io avessi diciamo l'interesse come titolare di una competenza particolare sarei molto attento da subito che questa mia competenza particolare, questa mia specialità sia tutelata fin dall'inizio e quindi ho immaginato e sono andato a ricercare nei dati di archivio che abbiamo che avrei dovuto sfruttare in questo senso la possibilità che l'ordinamento l'articolo 24 offre di formulare osservazioni su tutti quegli atti che sono preparatori, propedeutici e che sono diciamo preliminari alla fase di formazione del diritto europeo. Ho preso i dati che abbiamo in segreteria e effettivamente ho trovato che soprattutto nel periodo diciamo centrale eh quindi dal duemilasedici diciassette e diciotto vi sono state parecchie osservazioni da parte delle regioni eh diciamo che che sono arrivate anche alla nostra segreteria e in molti casi è successo che vengono inviate solo direttamente al dipartimento e quindi di quelle purtroppo non siamo in grado di tener conto perché non ne abbiamo poi traccia. Addirittura eravamo arrivati nel duemiladiciotto che è stato l'anno col massimo numero di osservazioni a trenta osservazioni. Eh viceversa poi si è assistito per una serie di ragioni rispetto alle quali credo che non non ultimo sia stata anche un po' la pandemia che ha giustamente insomma distratto anche tutte le attenzioni istituzionali rispetto altre ad altre emergenze eh più piuttosto che quella della partecipazione agli atti europei. Ma eh dicevo la la del duemiladiciotto dei trenta delle trenta osservazioni soltanto cinque tre della provincia autonoma di Trento e due della provincia autonoma di Bolzano venivano da regioni a statuto speciale. Ne erano cinque ma questa volta tutte la provincia autonoma di Trento nel duemiladicassette nessuna nel diciannove e eh una e una nel venti e nel ventuno sempre la provincia autonoma di Trento. Quindi diciamo che eh sicuramente se dovessimo prendere come riferimento dell'attenzione che le stesse regioni a statuto speciale hanno nella fase di formazione del diritto europeo eh dovremmo dire che è un'attenzione mh simile a quella di tutte le regioni a statuto ordinario perché non è che c'è eh come dire eh vi dicevo nel duemilaventuno una sola osservazione provincia autonoma di Trento su sei in totale di tutto il sistema regionale. Quindi eh c'erano addirittura sono state complessivamente quattro i soggetti che hanno fatto queste osservazioni due le hanno fatti due volte e quindi un totale di sei osservazioni. Nel duemilaventi lo stesso quattro soggetti e uno è la provincia autonoma di Trento. Quindi diciamo che un rapporto del venticinque per cento per quanto striminzito è rappresenta esattamente le cinque regioni eh su 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 le venti nel nel panorama italiano. Quindi sotto questo aspetto si sta nella media ma si sta a a a mio a mio avviso insomma eh eh considerato anche il numero elevato della produzione normativa europea si sta in una media che è una media carente cioè una media che non dà l'idea di una particolare attenzione da parte del sistema regionale italiano alla fase di formazione del diritto europeo. In questa carenza generale ripeto generale purtroppo diciamo eh si segnala che eh è replicata anche da parte delle regioni a statuto speciale quindi non 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 si distinguono dalle dalle altre nonostante tutto sommato questa potrebbe avrebbe potuto essere poteva essere l'occasione per eh per meglio eh diciamo tutelare le proprie prerogative eh statutari e costituzionali ancora. E direi che per per la legge due tre quattro eh salvo un accenno che poi farò alla eh alla formazione della delegazione italiana al comitato delle regioni che invece è un caso molto interessante soprattutto nell'evoluzione che c'è stata negli ultimi trent'anni direi che per la legge due tre quattro questa è l'unica è l'unica attività che possiamo eh diciamo annoverare. Per il resto nella fase di ricepimento eh le eh regioni a statuto speciale e le province autonome sono allineate allineatissime direi con con le altre regioni a statuto a statuto ordinario. Hanno tutte le regioni eh salvo una hanno una legge regionale di sistema e che quindi eh diciamo disciplina le modalità con cui quella regione quella provincia autonoma eh fa proprio nell'ordinamento regionale eh la la normativa fa proprio la normativa comunitaria europea e eh disciplina anche le modalità di partecipazione di di queste di queste regioni alla alla fase ascendente appunto. Quindi anche qui però non vi sono particolari acuti rispetto alla alla media. Allora passerei a questo punto alle altre due alle altre due normative dove invece la situazione è un pochino diversa. È un pochino diversa. Partiamo dall'articolo cinquantotto. L'articolo cinquantotto ho detto prima è antecedente alla riforma del duemila uno e del duemila e del mila e del mila centonovantasei e in particolare è l'articolo con il quale eh con norma nazionale viene riconosciuta alle regioni e alle province autonome la possibilità di aprire propri uffici di collegamento. Tecnicamente sono chiamati uffici di collegamento non di rappresentanza come la prima stesura della norma conteneva lì ci fu una precisazione ehm importante e comunque molto eh diciamo puntuale da parte del ministero degli esteri sul differenziare la rappresentanza dal eh dal collegare l'attività di una regione con l'Unione Europea. E questi uffici possono essere aperti presso di collegamento presso le istituzioni europee. In realtà nel tempo tutte le regioni e anche le due province autonome hanno aperto propri uffici. Le modalità con cui questi uffici sono stati aperti sono sono state molto diverse quindi vi sono stati uffici congiunti tra eh più regioni italiane vi sono stati uffici che invece hanno avuto come il caso degli uffici di due province autonome un un collegamento da subito con eh con il land Tirolo in questo caso e quindi con un un ufficio regionale di un altro paese membro eh anche altre regioni italiane hanno uffici in comune con altri con regioni di altri paesi membri c'è un caso in particolare l'Emilia Romagna con addirittura con quattro eh Francia, Germania, Polonia e quindi con quattro sono quattro diversi stati membri eh regioni all'interno di questi stati membri che hanno un ufficio in comune e ovviamente le esperienze sono diverse e sono più o meno eh direi positive eh complessivamente positive e e soprattutto nel caso nel caso delle eh delle due province autonome eh lo stesso potrei dire per la per la regione Friuli-Venezia-Giulia e per la regione Val d'Aosta per quanto con vicende alterne vicende diciamo e degli alti e bassi viceversa regione Sicilia regione Sardegna hanno da tempo eh molto mh diciamo eh eh limato la loro presenza con 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 uffici a Bruxelles e eh diciamo sia sia in termini di personale che in termini proprio della della struttura fisica che ospitava che ospita questi uffici ospitava questi uffici in caso la Sardegna al momento eh se non vado in affitto presso presso un'altra regione e mh la cosa più interessante però è l'altra disposizione normativa dell'articolo cinquantotto quello che prevede quella disposizione che prevede era un po' un incrocio no? Da un lato la presenza regionale eh diretta quindi le regioni sono a Bruxelles e a Bruxelles rappresentano i propri interessi e le proprie eh scelte di polisi eccetera eccetera dall'altro la presenza delle regioni a Bruxelles all'interno della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea quindi all'interno dell'ufficio del nazionale statale che eh si occupa esattamente di partecipare di organizzare la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente di seguire l'evoluzione di tutti i dossier che sono a diciamo alla all'esame delle istituzioni europee e eh che sono in decisione presso il Consiglio presso il Parlamento o o dove effettivamente siano e eh la legge consente prevede la possibilità per le regioni di di staccare quattro esperti regionali presso questa rappresentanza. Ecco il caso particolare che che mi ha fatto pensare è che inizialmente questi la conferenza dei presidenti doveva decidere siamo quindi a a fine anni novanta a fine anni novanta doveva decidere come selezionare questi quattro esperti e eh c'erano ovviamente infinite possibilità di di fare una long list di 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 fare per chiamata di fare turnazioni o quello che sia si decise di ehm diciamo andare a pescare su quattro gruppi distinti di regioni quindi si si divisero le regioni italiane in quattro gruppi e ciascuno di questi gruppi avrebbe espresso uno dei quattro esperti e i gruppi erano regioni del nord tra queste c'erano quindi Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria, cinque regioni, regioni del centro Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, cinque regioni, regioni del sud Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise, cinque regioni e quarto gruppo regioni a statuto speciale, Val d'Aosta, Trentino con le due province autonome, Friuli, Venezia e Giulia, Sicilia e Sardegna. Quindi ecco quello è stato un caso nel quale la 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 specialità ha assunto una rilevanza tale all'interno di una procedura decisionale della conferenza da far sì che diciamo i stessi presidenti abbiamo sentito l'esigenza di dire che uno dei quattro rappresentanti quindi il venticinque per cento appunto uno dei quattro rappresentanti doveva essere indicato da regioni a statuto speciale quindi in questo modo implicitamente si riconosceva l'utilità che ci fosse tra quelli quattro esperti uno proveniente e con la sensibilità del funzionario che che veniva da una regione a statuto speciale. Nel tempo si sono succeduti eh con diciamo alterne vicende anche personali ma insomma che sui quali ovviamente non quindi non c'è nulla di scientifico su cui ragionare funzionari e dirigenti della regione Sardegna della Sicilia della Sicilia sono stati eh uno in particolare è rimasto è rimasto per per sei anni della provincia autonoma di Trento è rimasta per otto anni quel quel funzionario e soprattutto del Friuli Venezia Giulia. Quindi l'unica regione a statuto speciale che non ha mai espresso un funzionario è la Val d'Aosta che effettivamente non ha mai non ha mai avanzato candidatura. In questo momento dei quattro esperti ce ne sono eh due uno è già uno è già in servizio e l'altro prenderà servizio della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi la regione Friuli Venezia Giulia complessivamente ha 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 espresso tre eh degli esperti che via via si sono succeduti in in questo ruolo. In questo ruolo. A questo punto andiamo al dato più interessante. Il dato più interessante è quello che ce lo propone l'articolo 5 della legge 131 del 2003. Perché dico il dato più interessante perché qui è la stessa legge che prevede questa riserva per le regioni al statuto speciale e in particolare eh ricordo la legge 131 del 2003 la legge che dà attuazione alla riforma costituzionale del 2001. L'articolo 5 eh in particolare dice che eh le regioni e le province autonome di Trento e di Volzano concorrono nelle materie di loro competenza alla formazione di atti comunitari partecipando nell'ambito delle azioni del governo e attività del consiglio e dei gruppi lavoro del consiglio e della commissione secondo modalità da concordare in conferenza stato regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e comunque garantendo unitarietà e la rappresentazione della posizione italiana. Ma vi è di più perché dopo quando lo stesso articolo siamo l'articolo purtroppo è stato scritto in maniera eh diciamo eh poco riferibile perché eh sono sostanzialmente due commi uno dei quali occupa una pagina intera per cui eh all'interno lo stesso comma vi sono più più eh citazioni da fare ma è sempre il è sempre il punto uno il comma uno dell'articolo. Quindi di seguito dice che nelle delegazioni che il governo ehm prevede per partecipare appunto alla formazione del del diritto europeo di decisione europea deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle regioni a statuto speciale delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ecco quindi che in questa con questa con questa dicione con questa legge viene previsto proprio una riserva per le una riserva di posti per le regioni in assoluto speciale. Ora io non so se se questa è stata la ragione direi di no ovviamente ma eh resta il fatto che questa norma è sostanzialmente stata inattuata eh di da punto di vista giuridico di diritto. Diciamo è stata attuata di fatto perché spesso rappresentanti a a comitati eh e a gruppi lavoro eh di della commissione del consiglio è successo che che vi siano stati rappresentanti e le regioni ma non è successo che lo siano stato ai lo siano stati ai sensi ai sensi di questa norma. E diciamo l'accordo generale di cooperazione che ha fatto seguito a cercando di dare attuazione a questa norma nel 2006 era marzo del 2006 ha di fatto prodotto nel tempo una volta nel 2007 una volta nel 2011 una long list di esperti che avrebbero dovuto partecipare a questi comitati e gruppi di lavoro e eh diciamo dati alla mano sono andato un po' a ritrovare le vecchie carte soprattutto nell'accordo del 2007 erano stati mh designati indicati eh venti rappresentanti su cinquantasei quindi eh direi quasi eh quasi un terzo insomma un po' più di un terzo venti su cinquantasei da parte di eh regioni a statuto speciale in particolare vi erano cinque del Friuli cinque la Sardegna sette della Sicilia e tre della Val d'Aosta in quel caso però poi in realtà eh come come ho detto questa norma è rimasta inattuata quindi non ha non ha visto eh diciamo non è possibile fare una valutazione esposta sull'efficacia di questa norma e sulla quindi la reale tutela che possa esserne derivata della delle specialità. Mi avvio alla conclusione ultimo caso che però mi sembrava molto interessante anche per dare delegazione al comitato delle regioni per dare un po' conto di questa eh di questo percorso eh della specialità all'interno delle eh della presenza regionale del diciamo del del successivo a attrezzarsi a parte del sistema regionale per essere presente a Bruxelles. eh la delegazione al comitato delle regioni come sapete al trattato l'Italia ventiquattro componenti titolari e ventiquattro supplenti come gli altri grandi paesi e eh nella delegazione iniziale questi ventiquattro titolari erano dodici delle regioni e dodici delle autonomie quindi delle province e dei e dei comuni e tredici supplenti erano per le regioni mentre undici erano per le province e per i comuni. Ora che succede che le i i dodici delle regioni erano divise cinque per le regioni a statuto speciale con cinque supplenti sette per le regioni ordinarie con otto supplenti quindi vi erano otto regioni ordinarie che in realtà non erano rappresentate con un componente titolare al comitato delle regioni in quanto solo sette avevano un componente titolare in quanto cinque invece erano in rappresentanza delle di ognuna delle regioni a statuto speciale quindi anche qui si era costituita una riserva e sotto questo aspetto è poi una nota diciamo storica a questo punto che ho ripercorso nel nel e ho citato nell'articolo che ho scritto sui sui diciamo per i 50 anni nelle regioni da statuto ordinario che il primo dpcm che nominava questa delegazione era del 6 agosto 1993 è stato poi modificato poco più che un mese un mese e mezzo dopo il 24 settembre perché perché si è stabilito che delle cinque regioni c'erano quindi sicilia sardegna friuli val d'aosta e trentino alto adice tra i titolari tra i supplenti ce n'era uno della val d'aosta del friuli della sicilia della sardegna e il quinto era della provincia autonoma di trento quindi restava fuori il rappresentante della provincia di bolzano in un modo o nell'altro e quindi il secondo dpcm a modifica del primo inserì di diritto un rappresentante della provincia autonoma di bolzano tra i titolari e uno tra i supplenti mettendo il vicepresidente di lingua italiana previsto proprio nel dpcm in quota alle alle disegnazioni che doveva fare l'unione delle province italia lupi quindi in quota le province che avevano cinque titolari e cinque supplenti e che in realtà quindi ne hanno indicati quattro perché di diritto uno era della provincia autonoma di bolzano tra i titolari e uno tra i supplenti quindi questo è per dire come 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 inizialmente fu eh tenuto conto nella formazione della della delegazione italiana al comitato delle regioni delle autonomie attualmente attualmente le regioni hanno quattordici componenti quattro sono eh designate alla conferenza dei consigli regionali mentre dieci sono designati tra le regioni vi sono tra i titolari due eh due componenti un il presidente della provincia autonoma di bolzano il presidente della regione siciliana mentre tre sono i supplenti una dell'assessore agli affari europei della regione valdaosta l'assessore alla programmazione a bilancio della regione siciliana e il presidente della regione sardegna quindi né eh la provincia di trento né la eh regione fluri venezia giulia hanno attualmente nella eh comitato delle regioni un rappresentante né tra i titolari né tre supplenti ehm io avrei avrei terminato e vi ringrazio di nuovo per per l'invito per l'attenzione seguo ora il 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 resto insomma delle le altre relazioni con particolare interesse grazie grazie mille grazie mille dottor Ciappi eh proprio è stato proprio l'appertura che si è viva come per vedere eh appunto l'attivismo ma forse o meno delle delle regioni che eh siamo qua eh a farle due tre domande almeno io ne avrei io io ci sono va benissimo l'unica cosa professore che sento ora davvero eh proprio tre parole sì e quattro no quindi avrei poi difficoltà non so se è un problema io provo adesso a parlare più nel mio no ecco così la sento così ok perfetto allora cerchiamo di avvicinare molto al eh al mio profono allora io ehm se volete iniziare voi a dire alcune domande allora la prima domanda riguarda la dottrina non non sente qui nel microfono così sente allora cerchiamo di di fare così microfono ehm allora eh la prima domanda riguarda proprio la dottrina politologica per la verità tedesca che questo europea capacità europea che che si si teorizzava per blocare un ruolo il loro ruolo all'interno della ehm integrazione europea all'interno della ehm integrazione europea e lì appunto eh sulla prima cosa che poca attenzione delle regioni in particolare di quelle su appunto alle proposte di diritto dell'Unione Europea ci seguo? Sì? Cerco anche di stringere perché per non complicare ulteriormente il discorso del collegamento ma la questione non hanno la capacità secondo lei è proprio un sono poco eh l'impatto o forse meglio ancora sentono poca eh chance di influenzare troppi filtri c'è la maggioranza all'interno no dell'Italia del Consiglio a livello dell'Unione Europea e questo mi interesserebbe eh e di questo non ha parlato ma sicuramente l'ho educato eh presso il Senato e la Camera della sussidiarietà e la necessità di fare forse probabilmente anche a livello italiano ha cambiato qualcosa e da quanto ha citato lei probabilmente però sarebbe un'informazione molto eh poi una domanda che riguarda potrebbe dire qualcosa dalla sua prospettiva e da quello che vede sono ancora così importanti come erano negli anni novanta sia simbolicamente ma soprattutto anche proprio di utilità perché ovviamente oggi tante cose come lo stiamo cercando di fare adesso anche noi si possono fare online eh c'è c'è internet le ehm informazioni sono molto più facilmente accessibili ovviamente per chi sa cercarle eh non generalmente no eh allora eh proprio sulla una un suo parere un suo commento sull'utilità odierna di questi eh uffici di collegamento perché ovviamente hanno anche un buon costo aggiungo l'esperienza tedesca mostra che vengono utilizzate molto di più vengono utilizzate anche per esempio per dare eh la possibilità a delle persone nei vari ministeri a fare delle specie di stage durante il periodo iniziale del del loro assunzione eh presso un ministero e fare proprio crearsi una rete a Bruxelles capire bene come funzionano le cose chi sono l'interlocutori eh a me non sembra per vari motivi che eh in Italia a livello regionale questo eh sia la prassi sia eh sia fatto io ho già parlato troppo spero che sia arrivato tutto e però se no è molto prezioso avere una sua prospettiva un suo commento su su queste questioni e forse anche altre grazie bene grazie grazie a lei professore le domande colgono eh diciamo direi i due temi i tre temi fondamentali eh vado subito a quella della socialità perché perché in realtà secondo me è un uno di quei settori dove poco si è fatto e più si potrebbe fare le regioni potrebbero essere più attente eh ma eh ma richiede un'organizzazione ad hoc di tutto ciò e richiede che eh vi siano eh diciamo delle delle persone delle competenze appositamente dedicate a fare questo tipo di analisi eh in qualche caso qualcosa si sta muovendo eh sotto questo aspetto segnalo per esempio che eh come ci insedo stiamo facendo assistenza tecnica tra l'altro la la dottoressa Odone che che lei aveva anche eh invitata a partecipare e impegnata esattamente in questo tipo di partita stiamo facendo un po' di assistenza tecnica e di ehm aiuto alle regioni sul sostanzialmente un intervento preventivo sulla legislazione europea quindi in particolare stiamo lavorando su due direttive che non sono ancora a livello di proposta non c'è una proposta stiamo ancora a livello embrionale stiamo facendo le consultazioni sul territorio con alcune regioni interessate e eh tra cui anche delle regioni a statuto speciale anche delle province autonome le due province autonome sono tutte e due e eh è un esperimento che secondo me potrebbe produrre frutti positivi il tema sa qual è e la domanda a che da porsi è ma a che costi cioè mettere in piedi questa cosa non casualmente su eh su su sulla prima cosa che passa ma metterla in piedi strutturalmente su tutto quello che viene prodotto a livello europeo che che benefici comporta rispetto ai costi che ha e forse sotto questo aspetto eh il il tema che a noi sfugge un po' con l'ordinamento secondo me è quello delle priorità per l'unico modo per avere una sintesi per avere una una capacità di scelta rispetto a quali dossier su cosa concentrarsi e avere una chiara selezione delle priorità chiara determinata e coerente cioè eh non non c'è una priorità di gennaio e priorità di febbraio diverse e a marzo ancora diverse perché evidentemente non ci sarebbe il tempo di costruire nulla quindi delle priorità molto coerenti costanti nel tempo che consentano di fare un'azione che possa portare un a portare dei risultati a dei risultati il problema è in quel caso appunto capire quanto poi quei risultati siano eh confacenti rispetto ai costi rispetto questo per la sussidiarietà è un po' la risposta per il resto eh sull'interesse eh cioè la prima la prima domanda che mi ha posto ehm ecco il problema delle priorità è eh è riferito soprattutto a quello cioè è difficile muoversi all'interno di una giungla come è stata definita da un autorevole ministro anni o sono la la piazza di Bruxelles e l'Unione Europea se non si sa esattamente da che parte andare se non si sa che cosa cercare perché si trovano tanti spunti tante cose interessanti ma poi non 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 c'è conseguenzialità in questa attività. Infine ruolo degli uffici secondo me le due le due cose cioè il fare rete e il il produrre eh scambio di competenze e arricchimento anche di conoscenze e in materia europea potrebbero essere il ruolo fondamentale degli uffici. Io tuttora noto dal 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 mio dal mio punto di vista che eh c'è una disattenzione da parte della pubblica amministrazione dei funzionari dirigenti pubblici rispetto all'Europa che è eh fatale nel senso che eh sembra quasi che l'Europa sia un fastidio che si trova per strada del quale uno dei tanti vincoli che si hanno quando si deve prendere una decisione. In realtà non è uno dei tanti vincoli ma è l'unico vincolo che del quale si deve tener conto nel prendere una decisione. Quindi poi troviamo dossier come quello mi permetto di dire senza ovviamente nessun intento polemico ma solo dati di fatto come quello ora sui balneari sulle concessioni balneari che è un dossier che insomma è in piedi da sedici anni e e non si è mai voluta potuta trovare una soluzione non lo so non 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 compete a me non compete a me farlo non compete a me eh dare valutazioni al riguardo però il dato è sicuro questo è un dossier del quale si sapeva benissimo la portata si conosce da anni e per anni è stato semplicemente tenuto sottoterra per per non non lo so se per non prendere decisioni per rimandare per inviare cosa ma certamente adesso è scoppiato in mano ma a questo punto non si può non si proprio andare. E questo è un po' significativo del fatto che questa presenza episodica a Bruxelles chiaramente non favorisce poi l'avere un ufficio. L'ufficio significa avere costanza nell'azione avere una presenza che sia strutturata. Se l'ufficio deve essere una persona eh mandato lì una ma scoperta un po' tipo appunto a volte li 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 chiamano con appunto sbagliando gli agenti all'avana le persone che sono no tipo un po' da da spionaggio ma così non serve a niente così non è così è un fatto diciamo quasi di costume no quindi poi poi si si va si va a cena quando arriva il politico e finisce lì la la partita ma non serve assolutamente a niente in quel modo ma viceversa sarebbero e sono molto utili attenzione cioè tutti gli uffici che lavorano bene sono molto molto utili. Infatti questo mi sembra proprio grazie mille sembra proprio essere confermato proprio dall'esperienza in particolare tedesca in in minor parte anche da quella austriaca che hanno un coordinamento interno molto molto efficace sembra visto che sono solo nove lende hanno risorse più limitate. La potenza di fuoco se posso dire così della della settanta e novanta di loro rappresentanza ma mi fa molto piacere quello che che ha detto e poi discutendo anche qui a Trento dove c'è una legge che legge di sistema no del consiglio provinciale per esempio queste queste riunioni c'è c'è anche una plenaria che discute una volta all'anno importante e la grande difficoltà è proprio i temi prioritari e lì si adesso si cerca di ehm analizzare per avere una prima impostazione e vedere che manca ancora per quanto so io e proprio quattro cinque temi su cui lavorare dare l'input all'ufficio a Bruxelles ma fare sistema del sistema regionale provinciale in Italia eh a livello di altre regioni a livello del governo in Europa no? E solo una un piccolo eh questo che ha detto eh cambia un po' questa idea del eh peggiora le cose per motivi delle eh delle differenze magari anche politiche e soprattutto nella selezione delle priorità gli uffici congiunti di alcune regioni in Italia hanno una rappresentanza ancora no? Guardi se guardi il tema il tema gli uffici congiunti mi sentite? Benissimo Il tema gli uffici congiunti va visto per due aspetti c'è da un lato il tema economico puramente economico quindi condividere delle spese quello in sé è un valore aggiunto del del fatto di stare assieme dopodiché è chiaro che se se io eh congiungo l'ufficio di una regione con venti di diciotto milioni di abitanti insieme all'ufficio di una regione italiana con duecentomiglia abitanti è evidente che oltre questo poco altro ci può essere a condividere perché eh perché gli interessi sono davvero troppo diversi troppo diversi Viceversa per esempio l'esperienza che che stanno facendo Trento, Bolzano e Tirolo eh con appunto una contiguità territoriale che non solo eh diciamo storico, geografico e culturale sicuramente è un valore aggiunto lo stare assieme è sicuramente un valore aggiunto anche in termini di contenuti no? E eh lo stesso eh uffici ho visto uffici spagnoli ma anche uffici dell'Italia delle regioni dell'Italia centrale Lazio, Toscana, Umbria, Marche che sono nello stesso stabile anche lì eh c'è la possibilità di condividere delle 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 prospettive e delle priorità che possono essere comuni e questo da da maggiore forza quindi sono due due aspetti da un lato ci deve essere una una sostanziale ehm vuol dire omogeneità eh territoriale, geografica, culturale non necessariamente politica guardi il eh io all'epoca avevo seguito la formazione dell'ufficio delle regioni d'Italia centrale quando fu fatto c'era anche un'omogeneità politica tra quelle cinque regioni successivamente non c'è stata non non diciamo non non si è mantenuta nel tempo però quell'esperienza almeno per alcune regioni esiste ancora tutt'oggi eh Lazio e Toscana sono due regioni di centro-sinistra viceversa Umbria e Marche sono due regioni di centro-destra come coalizioni però eh però stanno assieme tutto questo perché ovviamente eh le le priorità sono di tipo appunto geografico, territoriali e e di sviluppo del territorio e non e non di tipo meramente politico ecco quindi ehm questa sarebbe la la posizione grazie mille ottimo e eh una domanda o o due di Stefania Baroncelli grazie mille per la presentazione veramente veramente interessante che diciamo ogni ogni sì ogni dettaglio andrebbe diciamo fatta una domanda quasi no eh io mi chiedevo un po' mh cioè quale potrebbe essere la connessione o se c'è una connessione fra una presenza a Bruxelles eh da parte dei rappresentanti delle regioni e poi se questo ha un ritorno al livello di ehm attività eh della regione eh nell'implementazione del diritto europeo ora per esempio lei ehm diceva se non sbaglio che nel comitato delle regioni eh c'è stato il Friuli Venezia Giulia insomma per tanto tempo e eh ricordo mh non so ho fatto avevo scritto su queste cose eh anche un libro tipo dieci anni fa in cui c'era il Friuli Venezia Giulia che era una regione effettivamente molto all'avanguardia dal punto di vista amministrativo a livello di consiglio regionale amministrazione aveva emanato questa legge europea regionale che era eh un'apripista a livello italiano ecco quindi ehm perché c'è stata no questa cosa cioè c'è un 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 rapporto fra la presenza a Bruxelles e un maggiore attivismo a livello eh regionale questo diciamo una una prima domanda e eh in questo senso ehm come si potrebbe ehm eh creare un maggiore impatto cioè un circuito virtuoso perché eh questi questi rappresentanti delle regioni a Bruxelles di cui abbiamo parlato sono una mh diciamo un un vantaggio di non poco conto cioè si parlava no del presidente della provincia di Bolzano al comitato del delle regioni ma hm non lo sapevo neanche ma anche il presidente della regione Sicilia se ho capito bene e la Sicilia si sa insomma che è veramente in ritardo su tutta l'implementazione del diritto europeo abbiamo avuto un po' tipo due anni fa un convegno con una collega di Catania in cui proprio evidenziava questo ritardo che in realtà non è tanto dal punto di vista normativo perché le norme ci sono anche fatte bene insomma elaborate ma poi non c'è una implementazione eh a livello amministrativo cosa strana appunto perché se il presidente della Sicilia è nel comitato delle regioni ci dovrebbe essere una sensibilità ora queste persone che sono mandate a Bruxelles tra forse avrò un atteggiamento un po' eh concreto però voglio dire sono pagate vanno a Bruxelles poi dovrebbero costituire un valore aggiunto per tutte le regioni cioè eh c'è una metodo per cui dice questi sono stati a Bruxelles dopo un po' dopo mettiamo quattro anni non lo so che hanno imparato inutile ci stiano che ne so dieci anni no eh devono tornare indietro e fare sistema andare nelle varie regioni e insegnare perché altrimenti eh non diciamo si tratta di un sistema che non ha un impatto sul sistema regionale italiano o mi sbaglio purtroppo non si sbaglia sento anche l'altra domanda sì d'accordo allora la mia domanda è più generale visto che eh ha evocato all'inizio diciamo così eh il tema dell'attuazione del PNRR mi sente? Eh volevo capire eh appunto da con questa prospettiva più sul campo ehm se eh l'attuazione del PNRR eh sia un'opportunità per le regioni o sia ma invece ehm diciamo così piuttosto centralizzato eh come eh diciamo così sia nella fase di progettazione ma anche in quella di implementazione quindi questa nuova fase diciamo così ehm promossa dall'Unione Europea può essere un'occasione di rilancio per le regioni o no? dunque mi mi grazie le domande sono molto molto interessanti e mi mi tirate per i capelli a dire cose che eh delle quali mi assumo la responsabilità ma non sono solo esclusivamente davvero mie opinioni quindi eh devono essere prese davvero come tali e in qualche caso mare un po' scomoda eh la io trovo professoressa Baroncelli trovo corretta la sua ehm legame che lei trova tra una presenza a Bruxelles e effettivamente poi una un attivismo della regione anche in patria diciamo nel 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 proprio territorio quindi una una crescente chiamerei europeizzazione della regione sicuramente quella stagione del Friuli eh rappresentò eh stiamo parlando la stagione a cui lei faceva riferimento un po' la stagione dei primi anni degli anni zero del duemila in buona sostanza rappresentò un caso di questo genere e tutto sommato direi non sono proprio un esperto della stagione Friuli in particolare ma direi che eh ha prodotto degli effetti a catena che ancora oggi sono visibili ancora oggi sono visibili quindi eh si è mantenuto una regione con una forte propensione europea anche anche nella classe anche nella classe eh direi politica politica della regione e quindi è stato un fatto positivo è stato un fatto positivo sicuramente e ehm ecco sono più perplesso rispetto al ragionamento sulla regione siciliana in che senso che eh la regione siciliana intanto sconta un un diverso eh un la necessità di un diverso approccio alle politiche eh che è una necessità strutturale derivante dal fatto che è obiettivamente il il nostro il nostro meridione il il nostro paese è il paese che presenta al proprio interno il più elevato squilibrio tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Questo questo è un tema che noi facciamo finta di non affrontare oppure pensiamo di affrontare in maniera eh troppo semplice ma in realtà è un tema che che impedisce a tutto il paese uno sviluppo armonico. Noi siamo a livello eh direi mondiale mi permetto di dire probabilmente la terza la quarta forse la quinta non lo so frontiera col maggior numero cioè col maggior divario tra ricchi e poveri e è il nostro nord sud centro nord sud mettetela come vi pare poi avete visto che nel dai dati statistici europei le Marche e l'Umbria sono state diciamo risucchiate sotto la media europea e non non senza merito insomma no ma è un dato di fatto anche questo statistico no? E allora allora questo dovrebbe essere un tema che dovrebbe essere posto l'attenzione mi riallaccio ora al PNRR. Il PNRR è stato fatto eh senza le regioni questo è un dato noto anche perché qui mi permetto qui lo posso dire con tranquillità insomma ci sono vari documenti approvati e condivisi alle regioni nel quale si contesta proprio il fatto che il governo abbia agito non non tanto questo anche quello precedente eh quindi non abbia agito eh diciamo di sua di sua iniziativa scegliendo le priorità eccetera eccetera. Detto questo in realtà il PNRR è la fine della politica regionale che noi conosciamo della politica di coesione europea regionale eh se eh se se mi date retta ci rivediamo qui fra dieci anni e diremo che eh appunto nel nel duemila venti quando è stato lanciato il piano per la ripresa e per la resilienza in realtà si è decretata alla fine la politica regionale di coesione perché è un è un modo di spesa completamente diverso da quello che è stato finora il modo di spesa dei fondi europei dei cosiddetti fondi strutturali della programmazione europea chiamatela chiamatela come volete. Programmazione europea basata su si spende e vengo rimborsato PNRR basato su raggiungo dei risultati che hanno un certo valore e mi danno dei soldi ma non necessariamente per capirsi e dirla brutalmente come 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 c'è stata come mi è stata detta e come e come effettivamente è non necessariamente bisogna spendere i soldi per raggiungere quei risultati non so se mi spiego mentre i fondi europei si possono perdere se non si non si fanno spese a sufficienza per essere rimborsi per per vedere quei fondi europei utilizzare quei fondi europei come rimborso per queste spese nel caso il PNRR potrei avere due paradossi da un lato spendere il triplo di quello che mi viene dato per raggiungere quell'obiettivo e questo significa che quel triplo cioè due volte tre volte quello che che mi viene dato lo metto con i soldi miei quindi probabilmente lo farò al debito peraltro sapete bene che parte del PNR è comunque a debito delle risorse PNRR e ovvero altro paradosso di senso opposto non spendere nulla e raggiungere lo stesso l'obiettivo perché ci sono obiettivi che potrebbero essere raggiunti senza spendere nulla e semplicemente perché poi il problema della spesa è un problema della della del mantenere quel livello previsto a quell'obiettivo la sostenibilità di quell'obiettivo che un conto a raggiungere l'obiettivo di fare la riforma eh sanitaria la riforma della sanità territoriale obiettivo raggiunto apparentemente con con l'approvazione della riforma un colto poi è mantenerla e e su questo PNRR dice poco e e questa è la vera sfida sulla quale il paese si dovrà poi misurare non non tanto che che già quello è difficile per carità fare un certo tipo di forma riforma la giustizia lo lo insomma lo vediamo tutti i giorni sui giornali eccetera eccetera ma poi mantenere mantenere quel tipo di riforma ora in tutto questo io credo che la parola chiave sia eh europeizzazione e diciamo il filo rosso che lega un po' queste domande ultime mi sono state fatte sia europeizzazione e cioè la capacità del sistema di sviluppare componenti di adattamento all'Europa che poi agiscano autonomamente all'interno del sistema per una continua e progressiva crescita del sistema verso 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 l'Europa noi abbiamo ancora eh troppe procedure troppe eh diciamo ehm normative che sostanzialmente non sono compatibili con l'Europa non non sono compatibili o con i tempi previsti dal dalle decisioni europee o con le la le stesse normative positive dell'Unione Europea per cui e questo questo poi rappresenta questo rappresenta un problema è il primo problema per per stare bene dentro eh dentro l'Europa e per essere efficaci nelle scelte europee credo di aver risposto sì grazie 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 ah era chiuso non ha sentito nulla non si è sentito nulla ora 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 mi sento no ho perso prima facevo c'è no ora mi sento allora non non rifaccio tutto il discorso che che avevo fatto volevo solo allora intanto ho ringraziato nuovamente perché ho anche sottolineato però purtroppo al microfono spento sembra ma non mi sono accorto che lei ha detto queste cose e nella sua capacità personale e non istituzionale ringraziandole proprio per la chiarezza e anche la franchezza con cui ha commentato proprio la situazione perché è proprio questo che ci serve anche per il nostro dibattito e ovviamente lei l'ha fatto appunto da persona informata ma non nella sua veste istituzionale ovviamente. Poi ho cercato di chiudere questa prima parte proprio facendo riferimento a quanto ha detto alla fine sulla europeizzazione che mi sembra proprio appunto la conseguenza e il secondo passo dopo questo concetto che avevo citato io della capacità europea il risultato di questo e mi sembra molto giusto e importante e poi passo ho passato, passo la parola anche alla collega Antonia Baraggia e ringraziando ancora lei per essere con noi online e a voi due di essere qui nel seminario adesso appunto muoviamo la prospettiva alla Corte di Giustizia e parliamo proprio delle regioni davanti alla Corte di Giustizia perfetto non tocchiamo perfetto allora grazie mille grazie per questo graditissimo invito a parlare di un tema che è piuttosto teorico quindi passiamo da un lato più diciamo così pratico e concreto ad un aspetto più teorico e peraltro è un tema piuttosto ancora diciamo così lacunoso da un certo punto di vista in particolare dal punto di vista della dell'accesso delle regioni alla alla Corte di Giustizia prima però di entrare appunto nella nell'aspetto più tecnico dell'accesso delle regioni alla Corte di Giustizia vorrei fare un piccolo inquadramento diciamo così più generale che vuole partire dalla ancora irrisolta questione della posizione delle entità territoriali all'interno dell'Unione Europea a me sembra che oggi più di di ieri la posizione delle entità territoriali nel quadro dell'Unione Europea si trova al crocevia di diverse linee di tensione che sono particolarmente sentite all'interno dell'ordinamento europeo da un lato la tensione ben nota tra l'originaria natura internazionale dell'Unione e il suo successivo seppur travagliato e anche incompleto percorso di costituzionalizzazione questo diciamo così questa tensione pone una sfida al riconoscimento appunto della rilevanza europea delle entità territoriali il secondo aspetto riguarda la tensione tra il tentativo secondo me di definire un contesto paneuropeo soprattutto nella tutela dei diritti e dei valori fondamentali lo vediamo tantissimo rispetto alla crisi dello Stato di diritto e poi magari torno sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia su questo aspetto ma l'abbiamo visto appunto nelle sentenze del febbraio 2022 in cui la Corte ha enucleato in maniera chiara il tema dei valori fondamentali dell'Unione e dell'identità costituzionale dell'Unione europea da un lato e dall'altro però le identità particolari espresse non solo a livello nazionale ma ancora di più a livello regionale e subnazionale più in generale e qui fino ad arrivare a istanze anche secessioniste quindi anche qui abbiamo questo diciamo così questa tensione tra una la creazione di un contesto paneuropeo ma dall'altro la presenza di fortissime identità locali infine appunto la tensione tra un processo di federalizzazione sovranazionale sebbene sui generis io utilizzo i concetti di costituzionalizzazione e federalizzazione diciamo così impropriamente e consciamente rispetto all'Unione europea ma credo che ci capiamo quando parliamo di costituzionalizzazione e federalizzazione dell'ordinamento europeo e dall'altro appunto le tendenze nazionali interne di decentramento e regionalizzazione quindi pur essendo fenomeni diversi distinti in particolare quello della regionalizzazione all'interno degli stati membri e quello della europeizzazione a livello dell'Unione europea questi due fenomeni hanno esercitato da sempre non è una cosa cosa nota un'influenza reciproca perché da un lato la regionalizzazione degli stati membri ha influenzato lo sviluppo dell'Unione europea si pensa alle novità per esempio recepite nel trattato di Lisbona tra le quali emerge chiaramente l'articolo 4.2 che riconosce proprio il valore delle articolazioni territoriali degli stati membri dall'altro però sappiamo che lo sviluppo dell'Unione europea ha profondamente influenzato la dimensione regionale o decentrata degli stati membri fino a favorire la creazione di nuove entità territoriali laddove non c'erano o stimolando processi di regionalizzazione che erano già in atto ma non compiuti quindi in questo intreccio così complesso che appunto ho voluto mettere in luce perché non si può parlare semplicemente di ruolo delle regioni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia senza guardare al contesto così intricato appunto valutare appunto il ruolo e la rilevanza delle unità territoriali nell'Unione europea è un compito difficile senza risposte univoche perché da un lato la presenza regionale rappresenta una risorsa complementare per colmare alcune diciamo alcune lacune che sperimenta l'Unione europea per applicare il principio di sussidiarietà di prossimità per aumentare l'efficacia anche dell'attuazione delle politiche dell'Unione dall'altro però forti entità regionali possono rappresentare una sfida per l'Unione europea un ulteriore elemento di frammentazione oltre a questa complessità un altro elemento che lo metto diciamo così sullo sfondo riguarda il fatto che l'argomento questo tema può essere studiato da diverse angolazioni metodologiche che possono portare anche a valutazioni diverse dello stesso diciamo così dello stesso fenomeno in sintesi diciamo così è molto difficile tracciare una linea di sviluppo univoco di questo rapporto delle regioni dell'Unione europea non una sola storia si può narrare di questo rapporto ma tante storie rispetto alla diciamo così all'approccio che si vuole adottare rispetto alla tematica che si vuole mettere in luce diciamo così nel mio nella mia analisi parto da una chiara distinzione cioè le regioni possono essere viste nell'Unione europea come attori istituzionali all'interno di un contesto multilivello ma possono essere anche visti semplicemente come attori strumentali funzionali all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e al conseguimento degli obiettivi dell'Unione quindi possono essere considerati attori costituzionali politici possiamo dargli come dire la consistenza che desideriamo ma anche semplicemente degli attori funzionali delle mere articolazioni che facilitano diciamo così l'attuazione delle politiche dell'Unione come dicevo questo tema non è nuovo nella letteratura però a mio avviso quello che la letteratura fino adesso ha fatto è stato quello di concentrarsi su questi momenti chiave del percorso europeo delle regioni dalla cecità che è stata evocata alla speranza dell'Europa delle regioni e poi abbiamo visto negli ultimi anni però un declino di questo ruolo regionale dalla crisi economica in poi diciamo così la speranza dell'Europa delle regioni è stata sempre più disattesa sebbene appunto questi è interessante guardare questa storia alla luce di questi momenti è però interessante guardare anche diciamo così il sottotraccia un aspetto non sempre messo in luce dalla letteratura cioè appunto il rapporto tra le regioni le entità regionali e la corte di giustizia la giurisprudenza della corte di giustizia diciamo così da un lato se si guarda alla giurisprudenza della corte di giustizia ed è già stato osservato in letteratura appare quasi chiaramente che la corte di giustizia è più interessata alla tutela dei diritti anche laddove le entità regionali siano interessate piuttosto che alla struttura costituzionale degli stati rispetto poi appunto alla alla partecipazione diciamo così alla diciamo così all'ingresso delle regioni nell'Unione Europea in particolare nel generale sistema delle corti europee se potremmo dire che l'Unione è consapevole dell'esistenza vede le regioni ma non parla con le regioni quando lo fa lo fa sempre in maniera mediata limitata indiretta questo è evidente se guardiamo al fatto che alle regioni parlo delle regioni in maniera generale per indicare le unità subnazionali viene data lo stato di attori non privilegiati nell'ambito dei ricorsi di annullamento ex articolo 263 quindi diciamo così le regioni sono assimilate a qualsiasi altra entità che abbia personalità giuridica non hanno una diciamo una natura privilegiata non è riconosciuta loro una natura istituzionale privilegiata e questo è un primo dato dall'altro lato però pur con queste limitazioni non ci sono dubbi sul fatto che le autorità territoriali e locali sono tenute a rispettare il delitto dell'Unione e possono invocarlo in difesa delle proprie prerogative di fronte alle corti europee in questo contesto c'è una copiosa giurisprudenza che riguarda per esempio gli aiuti di Stato le politiche in materia ambientale rifiuti agricoltura e che una giurisprudenza stimolata proprio dalla dimensione regionale che spesso si occupa per competenza di tali materie e poi un altro aspetto che ha diciamo così favorito l'apertura alla corte di giustizia delle entità regionali riguarda il tema delle politiche di coesione ovviamente delle politiche regionali dell'Unione perché il giudice appunto dell'Unione ha sin da subito indirizzato le autorità locali standard o comunque diciamo così indicazioni che riguardano la buona gestione dei fondi lo sviluppo e le questioni operative nell'autorazione delle politiche di coesione come dicevo più dal punto di vista teorico l'Unione riserva alle entità subnazionali diverse possibilità di accesso il più rilevante anche in termini numerici è il ricorso per annullamento non è l'unico abbiamo l'azione in carenza abbiamo la possibilità di intervenire per accertare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione sebbene queste due ipotesi sono del tutto residuali e poi c'è anche il rinvio pregiudiziale il rinvio pregiudiziale delle corti nazionali costituisce un ponte rilevante per l'ingresso delle regioni nell'orbita della corte di giustizia in questo breve intervento però mi voglio concentrare proprio sul ricorso per annullamento dell'articolo 263 che appunto come dicevo rappresenta insieme al rinvio pregiudiziale la forma di accesso più rilevante in termini proprio sia numerici che sostanziali rispetto alle materie che vengono che vengono toccate dicevo prima che appunto da questo punto di vista le regioni sono assimilate a qualsiasi altra e a qualsiasi altro ente che sia dotato di personalità giuridica attribuzione che viene dal dal diritto nazionale quindi non è detto che tutte le entità subnazionali dell'Unione Europea partecipino di questa natura cioè abbiano personalità giuridica quindi anche qui abbiamo già un primo filtro un primo un primo ostacolo e poi l'articolo 263 menziona anche gli atti che possono essere impugnati e qui c'è un'interessante evoluzione dopo Lisbona perché le regioni possono impugnare gli atti adottati nei loro confronti oppure gli atti che riguardino direttamente e individualmente le regioni oppure e quest'ultimo è una aggiunta appunto introdotta dal trattato di Lisbona gli atti normativi regolamentari che riguardano direttamente che non comportano alcuna misura di esecuzione appunto questa terza fattispecie è stata introdotta appunto dal trattato di Lisbona che ha ampliato da un certo punto di vista la posizione di richiedenti non privilegiati eliminando appunto la condizione di essere individualmente interessati per gli atti normativi che riguardano direttamente richiedenti che non comportano misure di esecuzione qui si apre un altro problema che riguarda la definizione di atti regolamentari di atti normativi sulla quale la giurisprudenza non è assolutamente chiara tradotto sul piano dell'impugnabilità di un atto dell'unione la regione dotata di personalità giuridica è tenuta quindi a dimostrare di essere riguardata direttamente e individualmente dell'atto che intende far annullare o appunto come ho detto che l'atto regolamentare la riguardi direttamente che non comporti alcuna misura di esecuzione questo tipo di accesso si è riferito per lo più a decisioni della commissione in materia di aiuti di stato di fondi strutturali e del fondo di coesione indirizzati agli stati ovviamente ma relativamente ai quali è possibile rinvenire un effetto diretto di individuale in capo alle regioni la giurisprudenza su questo tipo di ricorsi è piuttosto lineare in linea generale questo tipo di ricorsi è ammissibile ovviamente al soddisfacimento delle condizioni dell'articolo 263 però appunto su questa linea su questo filone la giurisprudenza si è assestata diciamo così diverse sono le sentenze che hanno riguardato le regioni italiane anche le regioni ad autonomia speciale in particolare il caso forse più più noto riguarda la regione autonoma Friuli Venezia Giulia una sentenza del 99 in cui appunto la corte ha riconosciuto l'esistenza dell'incidenza diretta e individuale in capo appunto all'ente territoriale si trattava di una normativa in materia di appunto aiuto di stato regionale diversa invece più ondivaga è la giurisprudenza che riguarda i contributi finanziari nell'ambito dei fondi strutturali in questi casi infatti l'individuazione dell'incidenza diretta in capo all'ente competente territoriale è risultata più problematica il tribunale il tribunale di primo grado in realtà tendeva a riconoscere all'ente territoriale la diciamo così la caratteristica di ente che viene direttamente coinvolto nell'implementazione del fondo del finanziamento e quindi veniva riconosciuta la possibilità appunto di adire del tribunale in realtà la corte di giustizia ha negato questa qualifica alle allienti regionali e successivamente il tribunale si è adattato a questa giurisprudenza e il ragionamento alla base di questa di questa giurisprudenza riguarda appunto la insussistenza di un'incidenza diretta che deriva dalla riduzione o dal ritiro del contributo dell'Unione Europea che in realtà non colpisce direttamente l'ente territoriale anche se l'ente territoriale è responsabile della gestione ma lo Stato che è l'interlocutore diciamo così dell'Unione per quanto riguarda i fondi di coesione i fondi strutturali quindi il nesso causale diretto tra l'atto e il pregiudizio dell'ente che viene comunque privato del finanziamento che gli era stato attribuito viene secondo la Corte di Giustizia di interrompersi sotto questo profilo c'è un caso interessante abbastanza noto della regione Sicilia penso sia un caso che conosciamo perché è abbastanza noto cioè la regione siciliana era la regione che sovraintendeva un progetto di costruzione di una diga finanziato dai fondi europei e la regione stessa ha proposto ricorso in annullamento di una decisione della Commissione che siccome vi erano irregolarità nella gestione dei fondi europei aveva sospeso appunto il finanziamento la Corte di Giustizia appunto ha seguendo questa giurisprudenza consolidata ha ritenuto che la decisione della Commissione non aveva alcun effetto diretto e automatico sulla situazione giuridica della regione Sicilia cioè la Corte ha sostenuto che la decisione impugnata richiedeva solo il recupero degli anticipi versati dal dal FESR e non obbligava affatto lo Stato italiano a recuperarli dalla regione ricorrente quindi sostanzialmente senza entrare nel merito di questo ragionamento la Corte di Giustizia ha definito irricevibile il ricorso della regione Sicilia e qui si vede proprio una differenza netta tra la giurisprudenza appunto che ho citato prima in materia di aiuti di Stato e la giurisprudenza anche abbastanza numerosa che riguarda le decisioni della Commissione di sospensione di fondi per presunte o accertate irregolarità nella loro gestione e appunto è evidente questa differenza e nei casi diciamo che riguardano la gestione dei fondi strutturali la decisione negativa della Commissione incide direttamente appunto solo sulla posizione dello Stato non sulla posizione della regione mentre nel caso degli aiuti di Stato la decisione sempre negativa della Commissione incide direttamente su una misura adottata dalle regioni nell'ambito della loro competenza e questo è il discrimine tra le due diciamo così tra i due filoni giurisprudenziali questa giurisprudenza come dicevo è stata anche diciamo poi fatta proprio dal giudice di primo grado e c'è una sentenza recentissima sempre che riguarda la Sicilia una sentenza del 2019 che appunto conferma questo filone giurisprudenziale sempre riguardante la decisione di riduzione del contributo del FESR appunto già assegnato diciamo così alla regione e poi un altro caso che riguarda la Puglia nel 2013 in maniera del tutto risolto in maniera del tutto analoga ai casi che menzionavo siciliani siciliani diciamo sia quello del 2005 che quello più recente del 2019 un altro profilo di interesse ed è diciamo così l'ultima parte più teorica più astratta diciamo così che voglio toccare riguarda la possibilità per le regioni di ricorrere alla alla Corte di giustizia in maniera indiretta per tramite del Stato membro di appartenenza guardando al caso italiano ovviamente qui la legge da loggia ha introdotto due diversi percorsi nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome il governo può proporre ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia avverso gli atti normativi comunitari ritenuti legittimi anche su richiesta di una delle regioni o delle province autonome mentre il governo non solo è possibilitato cioè può farlo ma è tenuto a proporre ricorso qualora sia richiesto dalla conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle regioni e delle province autonome quindi la richiesta di una regione lascia al governo discrezionalità nella nella proposizione del ricorso mentre nella seconda eventualità cioè su attivazione diciamo così della conferenza Stato-Regione maggioranza assoluta c'è un obbligo in capo all'esecutivo a proporre il ricorso l'accesso indiretto però alla Corte tramite lo Stato di appartenenza è sconta diciamo così di un elemento non secondario ovviamente presuppone che ci sia omogeneità di vedute tra lo Stato e le regioni interessate dall'atto controverso quantomeno nella prima ipotesi della non obbligatorietà dell'azione viceversa appunto qualora le valutazioni delle regioni differiscono da quello dello Stato che è legittimato ad agire diciamo così le istanze regionali sono destinate a restare inespresse potendo solo divenire oggetto di un ricorso di annullamento a patto che però ovviamente la regione dimostri i requisiti di cui vi ho parlato prima cioè di essere riguardata direttamente individualmente dall'atto che si ritiene che si chiede di annullare in questo diciamo così contesto da un lato i nuovi diciamo così strumenti finanziari dell'Unione mi riferisco al Next Generation U e anche al nuovo regolamento sulla protezione del bilancio dell'Unione il regolamento 20-20 20-92 che introduce questo regime di condizionalità aprono regime di condizionalità a protezione del bilancio dell'Unione aprono nuovi interessanti scenari tutti da da esplorare perché non c'è come anche diciamo così nel trattato di Lisbona una univoca e diciamo incondizionata riconoscimento delle regioni quali attori che possano entrare nel contenzioso dell'Unione Europea però nella nel regolamento 20-20 sulla su regime di condizionalità si legge tra le definizioni che quando si parla di soggetto pubblico in questo regolamento si fa riferimento a un'autorità pubblica a qualsiasi livello di governo comprese le autorità nazionali regionali e locali ed è interessante perché quando si va a vedere quali sono le misure che l'Unione Europea può mettere in atto per proteggere il bilancio dell'Unione si legge possono essere adottate una o più delle seguenti opportune misure secondo la procedura di cui l'articolo 6 del regolamento ovvero quando la commissione esegue il bilancio dell'Unione il regime di gestione diretta o indiretta del regolamento finanziario e il destinatario è un soggetto pubblico quindi chiaramente il la condizionalità diciamo questo regolamento condizionalità si applica anche ai fondi che riguardano anche le autorità nazionali regionali e locali perché parlando di soggetto pubblico apre diciamo così non solo alle autorità nazionali ma anche alle entità territoriali sarebbe interessante questo è un esercizio puramente teorico visto che appunto il regime di condizionalità si applica orizzontalmente a tutti i fondi dell'Unione anche quelli di Cosione e del Next Generation U prospettare la possibile diciamo così evoluzione dei ricorsi di fronte alla Corte di Giustizia per esempio se è un'entità territoriale che pone in essere una violazione dello Stato di diritto si pensi per esempio al caso dei comuni polacchi adesso sto deragliando un attimo dalla specialità italiana ma che si sono dichiarati comuni LGBT free diciamo così l'ente municipale che metteva in essere una chiara violazione dello Stato di diritto in questi casi possono appunto le entità territoriali essere chiamate in giudizio rispetto alla violazione dello Stato di diritto e quindi possono essere soggette alla sospensione dei fondi oppure se le violazioni sono fatte dallo Stato centrale ma ad essere penalizzati sono l'entità territoriale a essere penalizzati dalla diciamo così dalla sospensione dei fondi sono le entità territoriali le autorità locali che magari agiscono in maniera contraria rispetto alle autorità centrali quali sono i margini di azione delle autorità locali territoriali insomma direi che gli ultimi sviluppi diciamo così degli strumenti finanziari dell'Unione e in particolare di questo regime di condizionalità aprono nuove prospettive tutte da indagare in definitiva mi sembra di poter dire che quello che si si vede quello che emerge guardando alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle regioni vi è sicuramente una simmetria una asimmetria tra le funzioni attribuite alle regioni in particolare alle regioni che hanno competenze legislative rispetto appunto al loro riconoscimento al loro ingresso nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e in particolare questa simmetria si vede anche rispetto alla importanza delle regioni in ottica funzionale cioè come destinatari ultimi per esempio delle politiche di coesione quindi alla fine sono le regioni come abbiamo visto che sono i destinatari ultimi i referenti ultimi dei fondi di coesione ma in fondo la titolarità spetta sempre allo Stato centrale ovviamente ci sono delle ragioni che giustificano questa simmetria ragioni che si devono guardare tanto a livello nazionale che a livello europeo a livello europeo sicuramente la limitazione la capacità limitata che è stata riconosciuta alle entità territoriali di adire il giudice europeo come dicevo anche prima a franzo va valetta nell'ottica di un contenimento del numero di interlocutori che possono adire le corti a favore per esempio di l'economia processuale della rapidità decisoria della corte la corte probabilmente se si aprisse a tutto il novero delle entità territoriali presenti negli stati membri sarebbe investita da ricorsi che non sarebbe in grado di gestire quindi questa può essere una ragione di questa limitata capacità di adire il giudice europeo dall'altro lato per esempio si potrebbe ragionare nell'identificare criteri oggettivi per esempio le entità territoriali dotate di competenze legislative potrebbero essere diciamo così circoscritte e potrebbe essere a loro affidato un canale preferenziale per adire alla corte alle corti europee dal punto di vista diciamo così interno questa simmetria non sorprende abbiamo sentito anche prima la posizione diciamo anche nella fase ascendente delle regioni in fondo è sempre filtrata dal livello nazionale quindi questa simmetria non solo trova una ragione nel contesto europeo ma anche nella limitata diciamo così riconoscimento della partecipazione regionale ai processi comunitari a livello nazionale quindi è una causa diciamo così che si deve riscontrare sia a livello europeo sia a livello a livello nazionale potrei continuare su altre diciamo così questioni più diciamo generali però mi fermo qua perché magari possiamo discutere su questi aspetti più tecnici grazie grazie mille adesso si sente si sente ok benissimo grazie mille per questa posso dire reinterpretazione di un tema tecnico e alla luce appunto dei più recenti sviluppi anche proprio del PNRR del Next Generation EU del regime di condizionalità a me pare di capire però che questo riguarda più una questione della adesso in modo forse un po' provocatorio dell'evoluzione della formula Plauman cioè c'è una più sofisticata distinzione dei casi in cui le regioni possono comunque individualmente agire quando sono individualmente direttamente interessati magari facendo appunto creando delle categorie o così via però più questo che una costituzionalizzazione di e allora quest'altro pensiero su cui abbiamo già fatto una riflessione insieme e tu l'hai richiamato adesso è quel discorso di cercare un criterio oggettivo che sarebbe più invece il lato costituzionale sempre in modo improprio usato per l'Unione Europea ovviamente nel senso di fare leva delle competenze legislative e di una più astratta possibilità di essere interessata come per esempio la Banca Centrale Europea oppure la BEI che quando sono interessate nelle proprie prerogative allora potrebbe essere una estensione in questo senso che sarebbe più un aspetto costituzionale che però probabilmente entrambi includendo anche Stefania e il dottor Ciaffi tutti e quattro non vediamo a livello europeo attualmente un'apertura di questo tipo e non mi sembra per quanto ho letto sulla conferenza sul futuro dell'Europa che sia stato questo un grande tema no? Anche no esattamente bene io su questo avrei poche domande se non se hai forse qualche informazione anche lì nuovamente sul discorso della sussidiarietà se questo è una strada che è stata già percorsa perché a me non risulta proprio anzi forse si potrebbe proprio dire la procedura del controllo preliminare in quanto procedura politica è stata poi quella prevista proprio a causa dell'inefficienza e del non utilizzo della via giudiziaria e anche a livello interno questa possibilità di fare leva del governo per promuovere delle questioni regionali non mi risulti che sia stato utilizzato bene Stefania tu hai una domanda ancora oppure altrimenti ti passo se si apriranno delle nuove prospettive effettivamente perché e soprattutto questa questione dei comuni polacchi che non è così minima ecco quindi forse ne vedremo delle belle non lo so a livello di corte di giustizia quindi molto interessante grazie bene allora lei ha una domanda dottor Ciaffi o no benissimo allora passiamo subito la parola a Stefania Baroncelli dell'università libera di Bolzano e il tema è proprio la corte di giustizia e io dico la regione Trentino Alto ha dei giusti ma in verità sarà della provincia autonoma di Bolzano grazie mille allora in realtà io devo fare un po' da discussant mi sono presa un po' questo tema spero di riuscire a coprirlo con dovizia di particolari e bene bisogna dire che nel Trentino Alto Adige soprattutto nella provincia autonoma di Bolzano c'è molto interesse al rapporto con l'Europa un po' diciamo tutte le minoranze in Europa si pensa anche quella catalana insomma hanno molto interesse avere un rapporto con l'Europa anche perché permette di avere un canale privilegiato che ti ancora a principi un po' diversi e quindi ti permette anche di diciamo disancorarti dai principi statali quindi è un canale un po' diverso e in effetti in Trentino Alto Adige in un primo momento non c'è stato molto interesse nei confronti della materia europea c'è stata anche una grossa difficoltà a dire la verità a livello amministrativo nell'applicazione della normativa europea con l'accesso dell'Austria nel 1995 all'Unione Europea ecco che il dibattito si è rianimato e in effetti si temeva che l'accesso all'Unione Europea potesse influire sulla tenuta di alcuni principi che insomma sono ritenuti cardine per la protezione delle minoranze quali per esempio la proporzionalità etnica nell'ambito del settore pubblico oppure l'obbligo di bilinguismo nel sempre settore pubblico e anche l'obbligo di residenza per usufruire di vari servizi anche il diritto di voto per esempio in realtà poi diciamo questa non c'è stato ecco un intervento dell'Europa nel senso di castrazione dei diritti delle minoranze anzi in realtà i diritti che soprattutto in alto adige vengono riconosciuti alle minoranze sono stati estesi a tutti i cittadini europei e questo per merito della corte di giustizia e appunto si parlava prima con i miei colleghi che la settimana scorsa era un convegno a Miami quindi diciamo con tutti specialisti su European studies ho incontrato una collega che non conoscevo neanche svizzera mi diceva ma dove vieni dal Trentino dall'Alto Adige ha subito iniziato a dire ma allora Trentino Alto Adige Bickel & Franz e qui e via e quindi diciamo siamo diventati un po' famosi a livello dell'Alto Adige proprio perché abbiamo aperto delle strade che prima erano sconosciute perché hanno avuto un impatto anche su altri stati europei e a volte anche in Italia hanno in effetti avuto il merito di avere un impatto sulla normativa interna poi riprese dalla Corte Costituzionale ecco quindi in questo senso io analizzerò queste sentenze che riguardano la sentenza Bickel & Franz Grauel Rieffer diciamo una coppia di sentenze che vanno insieme perché riguardano entrambi l'obbligo dell'uso anzi diciamo l'obbligo del bilinguismo nel processo e in particolare il diritto di usare la lingua tedesca nel processo penale e nel processo civile nella provincia autonoma di Bolzano poi la seconda sentenza è quella angonese che riguarda invece l'uso del certificato linguistico il cosiddetto patentino per lavorare nel settore pubblico la quarta è la sentenza camberai che invece riguarda i diritti sociali che devono essere garantiti anche ai cittadini non e di lungo soggiornati di lungo periodo ora ritorno su queste sentenze via via per chiarire un po' per finire poi farò un riferimento anche all'istituto del maso chiuso che è specifico dell'Alto Adige e che potrebbe presentare anche dei profili di violazione del diritto europeo che però non sono mai stati sollevati per il momento allora per quanto riguarda la prima sentenza quindi Bickel e Franz si tratta di una sentenza del 1998 quindi insomma ormai c'è stato scritto tanto su questa sentenza e in questa sentenza la Corte di Giustizia ha stabilito e quindi si è diciamo affermato una lettura dell'uso della lingua per quanto riguarda appunto il tedesco nel nei procedimenti nei processi criminali penali e in effetti qui questa questione si riallacciava all'applicazione dell'articolo 99 100 dello statuto di autonomia del Trentino Alto Adige che mette sullo stesso piano la lingua tedesca rispetto a quella italiana nel territorio dell'Alto Adige e inoltre dava da ancora insomma i cittadini italiani la cui madrelingua è il tedesco il diritto di usare questa lingua con gli uffici giudiziari e con la pubblica amministrazione che sono uffici che sono che si trovano nella provincia autonoma di Bolzano ora la questione quindi diciamo questi due articoli sono più generali la questione riguardava invece la lingua che doveva essere usata nel processo penale tra l'altro oltre allo statuto di autonomia esistono delle norme di applicazione norme di esecuzione dello statuto che vengono diciamo adottate tramite DPR o decreti legislativi che poi specificano queste questo articolo 99 100 dello statuto e che peraltro in per quanto riguarda il Trentino Alto Adige sono veramente molto numerosi infatti è un po' una caratteristica della nostra regione che non viene un po' poi utilizzata da altre regioni a livello comparato per esempio non so la Sicilia ne usa molto molto poco ecco quindi qual era il problema il problema era che nel caso specifico questi cittadini tedeschi Bickel e Franz che erano stati citati erano stati portati davanti a un processo penale nella provincia autonoma di Bolzano non potevano utilizzare la loro lingua madre perché non erano cittadini italiani e qui vediamo veramente la differenza di impostazione dello Stato italiano rispetto a quella europea da una parte abbiamo lo Stato italiano che praticamente dice appellandosi sull'articolo 6 della Costituzione che è quello che protegge le minoranze linguistiche che l'uso della lingua tedesca in Alto Adige serve a tutelare le minoranze e soprattutto a preservare la loro cultura dall'altra abbiamo invece l'Unione Europea dove si dice che si tratta invece di una discriminazione perché i cittadini tedeschi sono trattati in modo diverso rispetto ai cittadini italiani e quindi c'è stato appunto questa questo contrasto al livello di corte di giustizia e in particolare la diciamo la posizione dello Stato italiano era quella che innanzitutto prevedere dei processi in lingua tedesca per cittadini europei è più costoso è un sistema difficile e poi si tratta di persone che si trovano sul territorio su una base occasionale si tratta di turisti molte volte inoltre si faceva anche riferimento al fatto che nell'ambito del diritto penale italiano esiste la norma per cui se si è stranieri si ha diritto ad essere assistiti comunque da traduttori e interpreti quindi non si capiva appunto dal punto di vista dello Stato italiano come mai si dovesse avere il diritto di usare la lingua tedesca ma la Corte di Giustizia invece dice in modo molto chiaro che si tratta di una discriminazione e quindi che anche cittadini tedeschi che si trovano per motivi transeunti a dover transitare per il territorio al tuatesino hanno il diritto insomma di poter usare la loro madrelingua ecco e che quindi il fatto che si tratta di una protezione di una minoranza linguistica può costituire una ragione legittima per restringere l'uso della diciamo della lingua tedesca tuttavia non si tratta di una discriminazione che deve essere eliminata e poi peraltro appunto la Corte dice che comunque i giudici già parlano il tedesco quindi insomma non si tratta di una complicazione eccessiva come invece riteneva lo Stato italiano ora questi principi furono ripresi in seguito e quindi più recentemente da una sentenza decisa nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un processo civile questa volta cosiddetto Grauel Ruffer e qui peraltro si trattava di due signore che si trovavano a sciare sul territorio altoatesino e che insomma c'era stato un incidente sugli sci e peraltro una era austriaca l'altra però era cieca quindi non era neanche tedesca quindi non era la sua madrelingua però parlava tedesco ecco e quindi gli stessi argomenti vengono riproposti e di nuovo insomma la Corte di Giustizia sgombra il campo e dice si tratta di una discriminazione anche nell'ambito civile non è giustificabile questa differenza ecco tanto più che e questa è una costante della Corte di Giustizia delle motivazioni che hanno una pura natura economica non possono costituire una giustificazione per la limitazione delle libertà fondamentali che sono garantite dai trattati ora questo questi due in realtà queste due sentenze sono interessanti perché poi hanno aperto il campo all'uso della lingua tedesca in tutti i processi in Alto Adige non solo ai cittadini europei ma anche a quelli non europei non EU e questo tramite delle appunto del degli atti di implementazione esecutivi che sono stati emanati tramite decreti legislativi e infatti il decreto legislativo numero 186 del 2015 dice appunto questo che si può usare la lingua tedesca ma anche ladina non solo da parte dei cittadini ma da tutte le persone infatti si parla proprio di non citizens non di cittadini ma di persone ecco quindi sia peraltro che che siano cittadini dell'Unione Europea oppure non lo siano naturalmente si deve trattare di un tribunale che si trova all'interno dell'Alto Adige insomma no e in ogni caso è anche interessante che il per esempio il tribunale quello per dei minorenni del tribunale dei minori comunque ha diciamo aperto la strada perché ha sempre riconosciuto questo principio sulla base anche della Convenzione dei Diritti Umani e anche della Carta dei Diritti Europei che prevede che debba essere rispettato e protetto i diritti nel migliore interesse del bambino e quindi sulla base dei diritti dei minori intesi in senso ampio della famiglia ecco si fa sì che si può parlare in qualsiasi lingua anche se non si è cittadini italiani questo è diciamo le prime due sentenze passiamo adesso alla sentenza angonese su cui è stato scritto veramente tanto perché perché si trattava di un nodo fondamentale nello sviluppo dell'Alto Adige cioè il fatto che per andare a lavorare nella pubblica amministrazione bisognava avere ma non solo ma anche nel nel settore privato infatti questa sentenza in realtà eh origina da un ente privato che è la cassa di risparmio di Bolzano ma bisognava avere il patentino ora il problema non era tanto il patentino ma il problema era questo che questo patentino veniva rilasciato unicamente da un ufficio della provincia autonoma di Bolzano quindi eh nel caso specifico si trattava di un concorso che richiedeva il patentino della cassa di risparmio di Bolzano e nel caso specifico il partecipante al concorso era un cittadino italiano però di madrelingua comunque non mi ricordo ma comunque aveva studiato in Austria quindi sapeva perfettamente il tedesco solo che eh non aveva questo patentino non faceva in tempo ad averlo perché insomma i tempi erano veramente molto dilatati ehm e quindi c'è questo ricorso alla Corte di Giustizia e mh la quale ritiene che effettivamente si tratta di una norma illegittima quindi contraria al diritto europeo eh perché eh è contraria al principio della libera circolazione dei lavoratori in quanto eh diciamo dava dava un vantaggio a chi si trovava in alto adige rispetto a chi invece era esterno e chiaramente se arrivavi dall'Austria o dalla Germania anche se parlavi italiano eh era del tutto impossibile avere questo patentino in tempi eh ragionevoli ehm ecco quindi in seguito a questa eh sentenza che eh come dico dicevo appunto ha avuto veramente un impatto molto forte ehm ci è voluto molto tempo perché il l'impianto normativo dell'alto adige la recepisse quindi sono stati molti anni in cui c'era questa incertezza normativa e finalmente poi ci sono stati c'è stato il decreto legislativo del duemila dieci eh che eh peraltro ha eh equiparato al patentino i certificati linguistici in tedesco e in italiano che corrispondono ai vari livelli a due b uno b due c uno e così via però ecco in un primo momento ehm cioè non è che se io eh cioè se eh eh sono madrelingua italiana per esempio ho un certificato linguistico in tedesco devo comunque fare il certi diciamo il patentino eh in italiano tedesco cioè eh perché chiaramente si tratta di un bilinguismo mentre invece i certificati accertano soltanto la conoscenza di una lingua eh solo recentemente nel duemilaventuno c'è stato un un nuovo ehm decreto legislativo che ha equiparato la conoscenza eh al eh certificato linguistico C1 a una laurea quindi se si ha un diploma di laurea insomma si acquisisce immediatamente questa conoscenza della lingua ecco dicevo che eh è stata eh una sentenza che ha avuto un impatto importante perché poi è stata applicata successivamente dalla corte di giustizia in altri casi faccio riferimento per esempio al alla sentenza del duemila quindici eh commissione contro Belgio dove effettivamente c'era lo stesso problema perché si richiedeva un certificato linguistico per lavorare nei servizi pubblici eh che veniva rilasciato su uno speciale ufficio e quindi sulla base della sentenza angonese è stato dichiarato illegittimo perché è contrario al diritto europeo per ultima la sentenza camberai qui cambiamo un po' perché non si tratta di lingue e eh invece ci riferiamo ai diritti sociali ehm in particolare si trattava di ehm diciamo di un mh del si può dire del ecco di eh delle case popolari quindi del fatto di avere il diritto ad avere come assegnato una casa popolare e quindi eh c'era il problema qual era? Era questo che eh in questo caso i cittadini italiani erano trattati uguali a quelli europei quindi diciamo che da questo punto di vista l'Alto Adige aveva imparato la lezione e quindi nessuna discriminazione fra italiani e europei la discriminazione invece riguardava i cittadini non EU di lungo residenti di lungo periodo che hanno diritto avere un certificato di soggiorno un permesso di soggiorno di lungo periodo e in questo senso eh il c'era una distinzione nel senso che l'allocazione di questi benefici eh sociali era calcolata in modo diverso per le due categorie in particolare ora se volete vi dico esattamente ma insomma comunque era il coefficiente il coefficiente che veniva calcolato in modo diverso nel caso eh del dei cittadini non europei eh il coefficiente era cinque invece in quello dei cittadini italiani europei era uno questo voleva dire che in proporzione al numero ai bisogni eh la somma era eh molto più ridotta e se andava via molto più velocemente ecco eh quindi questo cittadino albanese camberai fa ricorso di fronte al giudice eh altoatesino il quale poi eh in via pregiudiziale si rivolge alla corte di giustizia tu dimmi se se sforo con sì perché questo va bene questo ormai lo sapete va bene e no ecco allora ehm è interessante questa sentenza camberai perché chiarisce un po' il significato del principio di eh non discriminazione nei confronti dei cittadini non europei per quanto riguarda il godimento dei diritti di eh sicurezza sociale e di assistenza sociale e in particolare esiste una direttiva del duemila tre la numero centonove mh questa direttiva all'articolo undici ehm regolamenta lo status dei eh cittadini non EU che sono che hanno una residenza di lungo termine e eh li eh mette sullo stesso piano quindi le equipara con i cittadini europei per quanto riguarda però soltanto il godimento del eh della sicurezza eh sociale della dell'assistenza sociale della protezione sociale ehm in base alla norma italiana comunque la norma nazionale e anche per quanto riguarda le procedure per ottenere la casa quindi eh per quanto riguarda questo nucleo di diritti sociali che sono fondamentali eh quindi quasi di sopravvivenza ecco c'è una equiparazione tra cittadini EU e eh non EU di lunga diciamo che sono residenti di lunga data. Ora però c'è un caveat come sempre questa stessa direttiva sempre all'articolo undici paragrafo quattro dice che lo Stato può limitare il godimento di questo trattamento uguale ai cosiddetti benefici essenziali quindi non tutti questi benefici devono essere garantiti ma possono essere risicati e ridotti all'osso per così si suol dire insomma sono eh solo a quelli veramente di sussistenza e mh e quindi la corte in questo senso eh deve decidere se l'Italia può limitare il l'uguaglianza di trattamento escludendo i servizi eh della casa quindi della dell'alloggio perché eh se li può considerare come non rientranti in questi eh benefici essenziali e la corte si riferisce peraltro all'avvocato generale e mh dicendo che non c'è un concetto unico in Europa di benefici essenziali eh tuttavia questo che eh diciamo ciò non significa eh questa è una cosa tipica della corte di giustizia eh non significa che lo Stato possa usare eh di questa mancanza di definizione per ehm per rendere la direttiva ineffettiva inefficace e mh e questo eh peraltro questa conclusione è rafforzata dal fatto che eh eh viene appunto citato l'articolo trentaquattro della carta dei diritti fondamentali che nel frattempo con il trattato di Lisbona ha assunto una eh efficacia vincolante e e quindi eh il questa eh questa norma quindi l'articolo trentaquattro paragrafo tre eh della carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto all'assistenza sociale e anche alla casa eh per assicurare un'esistenza decente per tutti quelli che non hanno abbastanza risorse quindi il diritto ad avere un eh una casa eh e e quindi di ridurre anche eh i senza casa quindi eh coloro che non hanno casa eh questo diritto era già previsto in realtà nella carta sociale europea tuttavia veramente con questa carta dei diritti eh che è diventata vincolante chiaramente la base è molto più forte adesso quindi eh per concludere su questo ambito eh in questa sentenza gambe eh Camberai la eh era una sentenza proprio della Gran Chamber insomma della Corte di Giustizia eh che la legge provinciale eh di della provincia autonoma di Bolzano viola il diritto dell'Unione Europea innanzitutto perché questi eh benefici essenziali eh non possono essere ehm interpretate interpretati nel contesto degli obiettivi dell'integrazione nel senso di escludere i eh di immigrati che sono mh soggiornati dal lungo tempo nell'Unione Europea e poi perché è contrario alla carta dei diritti fondamentali. Scusate qua cosa succede? Vabbè chiudiamo tanto. Ehm ecco questa è la prima cosa. E quindi eh la direttiva ehm vieta a eh agli stati tramite leggi provinciali di trattare in modo diverso eh i eh diciamo i U e non EU per quanto riguarda i benefici per la casa. ecco questo è quanto eh peraltro eh questa sentenza è stata ripresa anche dalla Corte Costituzionale italiana per dichiarare in costituzionali alcune norme che eh differenziavano i cittadini di eh appunto non EU ehm per avere proprio per i benefici per la casa in base alla legge nazionale eh in quanto venivano trattati in modo diverso ossia si richiedeva ai cittadini non EU alcuni certificati in più per esempio un certificato storico di residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale o perlomeno cinque anni nello stessa regione cosa che non era richiesta invece ai EU e ai cittadini italiani. Ecco questa è eh diciamo l'ultima sentenza che riguardava spero di essere abbastanza chiara. Ecco infine volevo solo fare un accenno magari eh sulla queste questa norma sul maso chiuso sapete che eh nella provincia autonoma di Bolzano esiste questa questa normativa mh molto particolare ehm che non è mai stata in realtà impugnata di fronte alla Corte di giustizia però ci sono state varie sentenze della Corte Costituzionale eh perché ehm diciamo che eh in un primo tempo eh c'era la questione eh se ehm cioè diciamo la norma prevedeva che il maso chiuso che sarebbe eh il diciamo la proprietà fondiaria eh di campagna coltivatrice ecco deve essere predato al figlio maggiore in toto in toto perché perché si vuole cioè non si deve dividere perché altrimenti eh il maso di per sé non darebbe sostentamento sufficiente alla famiglia e quindi insomma diciamo è una scelta per la preservazione della terra che ha una funzione molto importante a livello culturale e sociale perché eh in un certo senso si preserva il territorio per la famiglia ora appunto la Corte Costituzionale è intervenuta eh in un primo momento a dir la verità aveva detto eh nel millenovecentocinquanta sette che il maso chiuso era costituzionale perché eh appunto è un'espressione culturale eh della minoranza tedesca altuatesina eh nel duemiladiciassette invece eh ha detto che ehm invece è incostituzionale per quanto riguarda l'uomo e la donna perché perché in realtà veniva dato in base alla norma sul maso chiuso solo al maschio al primo figlio maschio quindi c'era una violazione del principio di uguaglianza uomo donna che veniva riconosciuta insomma finalmente diciamo dalla Corte Costituzionale eh una seconda sentenza del duemilaventuno sempre della Corte Costituzionale riguardava la discriminazione per motivo dell'età perché si diceva che era incostituzionale eh destinare al figlio più anziano al primo genito eh perché in realtà poteva essere anche un secondo terzo genito che era più attaccato alla famiglia e in realtà il criterio eh che doveva essere utilizzato era quello dell'attaccamento alla terra e soprattutto l'esperienza che veniva dall'avere lavorato insieme alla famiglia quindi il fatto di essere stato dentro al mato di averlo gestito con gli animali l'agricoltura eccetera doveva essere considerato perché era una garanzia insomma di portare avanti l'attività ecco questo diciamo siamo arrivati eh qua eh a dire la verità però ecco ci sono ancora del eh dei punti un po' dolenti in questa normativa perché ancora adesso eh nel per quanto riguarda la successione allora la successione funziona che va bene adesso non c'è più questa discriminazione maschio femmina o primo genito secondo genito però chi prende il maso poi deve pagare una cifra molto bassa agli altri i quali di fatto restano esclusi poi dalla eh discendenza cioè non ereditano o comunque ereditano una cifra molto bassa che è diversa rispetto a quella del prezzo di mercato del maso stesso e quindi in questo senso eh si potrebbe nel futuro identificare anche un punto di discriminazione perché per per esempio la CEDU quindi la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo protocollo uno articolo uno prevede il diritto di proprietà e che riguarda anche peraltro include anche i diritti che sono relativi alla successione e all'eredità quindi hm diciamo che a livello europeo potrebbe anche eh eh presentarsi una violazione di principi europei ecco grazie Stefania penso che questa era veramente una bellissima ehm come dire un arrotondamento del del tema e una bellissima è un bellissimo arricchimento proprio di di quanto abbiamo discusso anche se e questo non non lo dico nei tuoi confronti ma lo dico nei confronti del tema che abbiamo scelto poi noi eh eh anche se eh rispetto a quanto discusso prima mi sembra davvero molto particolare ed è adesso senza polemica eh perché anche io mi occupo come come sapete eh della tutela delle minoranze eh ma mi sembra quasi un orticello e la prospettiva che hai benissimo detto tu all'inizio eh da una parte è quella dell'apertura e dell'estensione come di solito eh lo fa la Corte di Giustizia, lavoratori, pubblica amministrazione, concetto del tribunale no? Del giudice no? Eh eh mentre quello della provincia è quella proprio della difesa tutela intesa proprio come come difesa e eh eh e la provincia che deve praticamente imparare dalla stessa Corte di Giustizia eh come queste due cose possano essere almeno magari non sono compatibili ma possono essere resi eh rese eh compatibili no? E in in questo senso io per esempio già dal novantotto mi sono sempre chiesto ma come mai solo i cittadini di lingua tedesca perché come mai si fa riferimento al madre al concetto di madrelingua che non c'è scritto nel DPR 578 eh 74 dell'88 cioè sull'uso della lingua in Alto Adige ma alla fine in Alto Adige si sceglie la lingua indipendentemente no? Eh discorso della scuola è un altro discorso ma qui proprio sull'uso della lingua tu scegli la lingua e se sei italiano e vuoi parlare e anzi ci sono i casi del Corte Costituzionale dove scegli l'italiano perché poi pensi di scegliere anche un avvocato che ti rappresenti meglio ipoteticamente in Cassazione no? Ecco e allora mi sono sempre chiesto ma un portoghese, un turco, turco non è cittadino europeo ma comunque un francese no? Che hanno vissuto in Germania o in Austria e hanno si trovano e allora prontamente con Graue Ruffet è arrivata la cittadina e la signora della Repubblica Ceca no? E abbiamo avuto questo caso e l'occasione per una correzione perché secondo me è proprio fatto benissimo a mettere in evidenza questo discorso proprio dell'evoluzione nel senso di un' estensione e una qualche modo neutralizzazione di questo concetto cioè proprio la logica funzionale nuovamente rispetto ad una mera logica di tutela in senso riduttiva in senso di difesa no? E rafforzando in qualche modo anche proprio soprattutto questo principio del bilinguismo che c'è proprio attraverso la dimensione funzionale. L'altra cosa invece è che sono tutto appunto torno al discorso dell'Oticello che con questo non, no, con tutto il rispetto per l'Oticello ma forse è proprio un po' questo anche il discorso che non abbiamo altri casi da raccontare che è un po' il discorso di prima, il discorso del disinteresse regionale, il poco attivismo, no? Che in parte perché ci saranno anche penso solo alla A22, no? O in tema di proprio licenze e di appalti. Ci sono per la verità ci sono delle sentenze sul parking Bressanone, no? Queste quelle lì però questo non era non era il tuo tema dico solo ci sono alcune sentenze di queste e di questo tipo ma alla fine no? Sì, sì, questa società in-house, no? L'appalto ad una società del comune se ci sono delle delle particolarità e se è possibile secondo la legislazione comunitaria o unionale per quanto riguarda gli appalti. Però anche quelli sono ormai di 15 anni fa o così circa, no? In questo caso sono, diciamo, sono casi che non sono risolti a livello politico ma vanno davanti al giudice. Sì. Perché normalmente a livello politico si trova una soluzione. E poi, esattamente, poi questo mi permette di arrivare io alla conclusione poi se volete aggiungere qualcosa ben volentieri o anche lei, lì il discorso proprio la questione politica a monte non abbiamo nel caso dell'Alto Adige come abbiamo però anche per poche cose solo se ricordo bene nelle autonomie delle isole Arland non abbiamo una riserva dell'Italia posta, no? Per quanto riguarda per esempio il trattato di Maastricht, trattato di Amsterdam, di Nizza o di Lisbona che 92 Maastricht è anche composizione del conflitto ufficiale in Alto Adige e si poteva anche, poteva anche starci, no? Di dire facciamo questo a chi autonomistico di Bolzano in qualche modo lo segnaliamo almeno a livello dell'Unione Europea, no? Per tutelare a monte già alcune questioni. Oggi sarebbe ancora più facile con l'articolo che hai già citato prima dell'articolo 4.2, no? Della identità costituzionale e così via avanti. Ecco, queste erano proprio due questioni che mi erano venute durante quello che hai detto e per cui ti ringraziamo e se non ci sono altre domande... La signora vuole fare una qualche domanda, è sicura? Allora io chiuderei la registrazione, ringrazio a tutti che sono, tutte che sono intervenute e anche al dottor Ciaffi che è intervenuto e che si è scusato perché grazie, grazie. Ancora con noi, grazie. Sì, siamo seguito, sono uscito ma abbiamo seguito, interessantissimi e complimenti alle relatrici, davvero molto, molto anche, insomma, significativo direi rispetto ai temi che state affrontando. Grazie. Grazie a lei anche di essere stato con noi e di aver discusso con noi e ci appunto aggiorneremo probabilmente presto in tre dimensioni tutti quanti. Buona buona serata a tutti e grazie di aver seguito e partecipato attivamente. Arrivederci. Grazie.